buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo le basi su come aggiungere un testo in 3d, su come anche animarlo e colorarlo con il programma DaVinci Resolve questa è la preinterfaccia, si va su New Project, chiamiamolo testo 3d animato si va su Create e si aprirà l'interfaccia di DaVinci Resolve andiamo sulla scheda Edit direttamente qui per adesso non aggiungiamo niente andiamo con il destro del mouse sulla Media Pool e andiamo su New Fusion Composition ci clicchiamo sopra lasciamo stare anche il nome della composizione Fusion Composition 1 Frame Rate quello sapete di DaVinci Resolve 24, possiamo avere 25 è la stessa cosa e si va su Create se io faccio un doppio clic su Fusion Composition qui vedete faccio un doppio clic e aprirò la scheda Fusion nella scheda Fusion come vedete c'è soltanto Media Out al momento la prima cosa da aggiungere è il background del nostro testo quindi lo prendo e lo aggiungo lo seleziono e si va qua a impostarlo in Inspector io personalmente imposterei un background trasparente quindi cliccherei qua vedete questo è un background trasparente e poi lo unisco qui a Media Out e questo è il background a questo punto dobbiamo crearci il nostro testo 3D e andiamo su testo 3D che è questo lo aggiungiamo naturalmente qua qui si può illuminare la seconda secondo pallino per visualizzare il testo qua qui scriviamo un testo qualsiasi che so testo 3D e qui si vede come vedete essendo illuminata questa qui si vede nel secondo player si vede appunto questo qui si può si può agire su queste tre assi per modificare la posizione del testo se io tengo premuto la rotellina centrale del mouse posso spostare il testo in questo modo se io invece tengo premuto la rotellina centrale del mouse contemporaneamente però tengo premuto anche il tasto alt della tastiera posso ruotare il testo in questo modo vedete dunque come vedete questo testo ha una particolarità è bidimensionale non è tridimensionale per farlo diventare tridimensionale occorre aggiungere quella che si chiama estrusione chi conosce un po' blender o anche sketchup sa a che cosa mi riferisco vado qua su rispetto qui c'è extrusion ci clicco sopra e qui ecco magari portiamolo proprio in posizione ecco qua in extrusion nella profondità aumento la profondità della istrusione se io adesso tengo premuto alt come vedete adesso si vede che è un testo tridimensionale qui si può spostare anche in maniera rotatoria questo per muoverlo in maniera traslatoria questo per muoverlo in maniera rotatoria si vedono questi tre questi tre circoli questo per spostarlo in maniera rotatoria orizzontalmente questo per spostarlo in maniera verticalmente questo per spostarlo nel terzo asse la terza opzione di modifica del testo è quella di scalare qui si può scalare in questo modo qui si può ruotare dunque adesso però dobbiamo collegare questo testo al resto se noi ci proviamo non succede niente perché dobbiamo aggiungere un altro modulo un altro nodo merge 3d che dovrebbe essere, eccolo qua, è questo merge 3d, lo spostiamo e lo colleghiamo al testo 3d però anche questo se ci proviamo a collegarlo non succede niente non verrà aggiunto al media out dobbiamo aggiungere un altro modulo che è questo render 3d lo spostiamo e lo colleghiamo dunque questi sono moduli in 3d e questi sono nodi in 2d ma li possiamo collegarli selezionarli e postarli così una cosa fondamentale del testo 3d è la luce se noi selezioniamo render 3d in questo modo e andiamo qua nel nell'inspector abilitiamo lighting e shadow se noi visualizziamo adesso il testo qua ecco qua si vede che è praticamente completamente nero perché non abbiamo aggiunto la luce per aggiungere la luce andiamo andiamo sul dobbiamo aprire il menu contestuale tenendo premuto la maiuscola andiamo sulla barra spaziatrice in questo modo verrà aperto questo menu contestuale digitiamo light e scegliamo directional light lo vedo selezionato andiamo su add e questo directional light la posizioniamo in questo punto uniamo directional light con merge in questo modo selezioniamo il testo 3d e da visualizzare sulla sinistra mentre il render lo visualizziamo sulla destra magari qui adesso cerchiamo di spostare il testo sia con la ecco fatto che con la scala in modo che sia visibile selezioniamo directional light e qui andiamo su questo transform per impostare la direzione della luce questa è la luce vedete qua si vede possiamo magari anche spostare qua come vedete nel momento in cui io la sposto vengono modificati questi parametri posso fare una rotazione e come vedete la luce cambierà di aspetto e cambierà di aspetto anche il testo chiaramente con la luce impostata io posso andare su rotate per esempio ruotare la luce in tutte le direzioni vedete a questo punto posso unire il render 3d a questo queste parti questo blocco che è in tre dimensioni tutto questo qua a quest'altro andando su render 3d unendolo a background verrà creato automaticamente un nuovo modulo modulo merge eccolo qua e questo è diciamo così il testo 3d possiamo vedere anche il suo rendering come vedete è fisso però noi possiamo anche applicare i fotogrammi chiave che so andiamo su testo per esempio qui il colore è sempre bianco e noi mettiamo un fotogramma chiave qua qui poi spostiamo in avanti magari di una ventina di fotogrammi e cambiamo il colore in rosso ok poi spostiamo in avanti ancora di qualche fotogramma e cambiamo il colore in blu andiamo ok spostiamo di qualche fotogramma andiamo in verde ok ancora di qualche fotogramma violaceo violaceo e andiamo a fondo scala e ritorniamo sul bianco ok vediamo adesso l'anteprima e il testo come vedete passa da un colore a un altro quindi è una prima personalizzazione che può essere fatta naturalmente la seconda personalizzazione è quella del posizionamento andiamo qua su questo iconcino di transform a questo punto all'inizio sta così il testo qui impostiamo questi fotogrammi chiave magari della rotazione ecco impostiamo tutti ma poi impostiamo pure quelli della traslazione all'inizio il testo sta così poi andiamo qualche secondo più avanti e magari lo giriamo in questo modo poi andiamo qualche secondo ancora più avanti e lo giriamo così qualche secondo un po' più avanti e lo giriamo così ancora più avanti lo giriamo così ancora un po' più avanti ecco qua ancora un po' più avanti e magari lo mettiamo così ecco adesso possiamo vedere l'anteprima vedete abbiamo animato un po' il testo a questo punto noi possiamo andare sulla scheda edit possiamo spostare fusion composition sulla timeline e vedere il risultato per esempio qui sulla timeline ma possiamo fare anche di più possiamo aggiungere alla media pool un video questo per esempio questo postiamo in alto nella traccia superiore questo postiamo nella traccia inferiore qui magari questo è un po' corto ci aggiungiamo un altro ecco fatto e magari ce ne aggiungiamo un altro ancora possiamo vedere l'anteprima chiaramente l'anteprima andrà a scatti perché ho messo talmente tante cose che un po' a scatti andrà anche se non va tanto a scatti però come vedete c'è il visto che ho scelto un background trasparente il testo 3D può essere posizionato a disorda di un video in maniera molto semplice e molto naturale queste diciamo che sono le basi per l'inserimento dei testi 3D animati con fotogrammi chiave su DaVinci Resolve spero di essere stato utile a qualcuno che avesse intenzione di inserire questa funzionalità nei propri video alla prossima volta c'è